Musica Cari amici, buongiorno, lunedì 6 maggio inizia puntuale 9.30, questa nuova puntata di Mattina Sud di inizio settimana purtroppo con un tema nero che questa sequela incredibile di incidenti addirittura morti sul lavoro ne parleremo con il direttore dell'INAIL di Puglia, buongiorno, che saluto e ringrazio ci ha raggiunto nei nostri studi per parlare approfonditamente Buongiorno, grazie per questo invito, grazie Chiaramente è inevitabile un riferimento agli ultimi fatti di cronaca, li ripercorreremo con le nostre schede realizzate sul posto dai nostri giornalisti, dalle diverse redazioni ma poi ci focalizzeremo sui dati perché al di là purtroppo della cruda cronaca ci sono anche delle azioni in campo e l'INAIL è molto attiva come vedrete Partiamo dalla cronaca di queste ultime ore, in particolare sabato un uomo di 46 anni, un operaio a Brindisi ha perso la vita proprio mentre era impegnato per conto di una dita esterna in alcune attività di manutenzione sull'impianto dello zuccherificio a questo si aggiungono notizie ancora più grave, anche il suo padre morì lavorando l'11 febbraio di 9 anni prima intanto partiamo dalla scheda che ci riassume quanto è avvenuto il sequestro in particolare dell'impianto per poter procedere con le indagini ce ne parla Fabrizio Caglianiello Si cerca di capire cosa sia accaduto quella maledetta notte tra il 3 e il 4 maggio gli inquirenti stanno ascoltando i colleghi di Vincenzo Valente il 46enne è deceduto in seguito ad un tragico incidente sul lavoro avvenuto nei pressi della torre di intersezione dei nastri trasportatori 5 e 6 dello zuccherificio di Brindisi un operaio esperto lo descrive chi lo conosceva Valente pare sia rimasto incagliato nell'ingranaggio del nastro che gli avrebbe amputato di netto un braccio inutile ogni tipo di soccorso era dipendente di una ditta esterna che si era giudicata all'appalto per la manutenzione del nastro trasportatore che collega lo stabilimento ex Sfir al porto industriale di Costa Morena Est sul fatto indagano polizie ed esperti dello spesa dell'asile di Brindisi coordinati dal pubblico ministero di turno del tribunale di Brindisi Raffaele Casto la comunità di Latiano, città natale della vittima, è sconvolta nel 2015 anche il papà di Vincenzo Cosimo morì a causa di un altro sfortunato incidente sul lavoro l'uomo precipitò da un albero d'olivo mentre era impegnato nella potatura un tragico destino che ha comunato padre e figlio e sì veramente una tragica coincidenza ma chiaramente non c'è solo questo non si parla solo di dati e numeri ma di persone per questo c'è stato come è comprensibile grande sgomento nella sua comunità d'origine, Latiano, siamo sempre nella provincia Brindisina noi abbiamo raccolto anche le voci di chi conosceva quest'uomo Vincenzo Valente ascoltate queste interviste realizzate da Davide Cucinelli La morte sul lavoro di Vincenzo Valente tocca il cuore dell'intera comunità latianese con il primo cittadino Cosimo Maiorano che lancia un messaggio di vicinanza e solidarietà ma anche di necessità di risposte concrete per la sicurezza sul lavoro Il dramma che vive sicuramente la famiglia di Vincenzo Valente è che logicamente stiamo vivendo nell'intera comunità latianese io intanto ne approfitto per porgere veramente le sentite condoglianze alla famiglia Valente voglio trasmettere l'affetto più sincero e noi oggi questa l'abbiamo assunta veramente a poche ore a pochi giorni dal primo maggio il primo maggio in tutta Italia abbiamo festeggiato la festa del lavoro, la festa dei lavoratori però ecco oggi registriamo con la morte di Vincenzo l'ennesima vittima sul lavoro una persona vada a lavorare per vivere e non per trovare la morte Eh sì, così dovrebbe essere sempre lavorare per vivere e non per lavorare ma soprattutto non lavorare per poi trovare la morte come sempre noi non entreremo nel merito della vicenda saranno poi i tribunali eventualmente a scandire a dettagliare meglio che cosa è avvenuto però con il direttore dell'INAIL di Puglia Giuseppe Gigante ci interessa analizzare evidentemente il fenomeno lo diceva il sindaco, insomma sono passati pochi giorni dalla festa dei lavoratori direttore mi viene da pensare un lavoro che ad oggi ancora è un lavoro malato non soltanto per quei problemi che conosciamo rispetto a contratti come dire inopportune di una precarietà che continua ad attanagliare molte fasce di lavoratori ma anche lì dove purtroppo il lavoro ancora non è sicuro Ci sono due elementi che sono emersi dalle premesse la prima faceva riferimento a lei dietro questo numero ci sono persone ci sono drammi di famiglie e di comunità intere questi eventi graffiano il cuore perché ci interrogano su quello che è il vero significato del lavoro il sindaco di Latiano ha richiamato il primo maggio noi notiamo purtroppo con un grave disappunto che il primo maggio diventa sempre meno la festa dei lavoratori è più una ricorrenza per coloro che di lavoro sono morti questo ci interroga, ci interroga come cittadini, come istituzioni e ci chiede di analizzare sempre meglio il fenomeno perché noi ci rendiamo conto che il lavoro è vita il lavoro non deve essere fonte di dolore tenuto conto che la nostra Costituzione torno proprio ai principi fondamentali mette alla base, mette quale elemento formativo definisce quale elemento fondativo del nostro vivere quotidiano il lavoro, elemento attraverso il quale ognuno di noi esercita la propria personalità i dati dell'INAIL hanno una rilevanza sicuramente in primo luogo statistica ma ci raccontano come la nostra società si organizza rispetto al tema del lavoro e quali sono le tendenze e purtroppo questo inizio del 2024 come diremo più avanti ha dei dati a dir poco allarmanti Sì perché l'INAIL per questo vi ringrazio ci ha fornito dati assolutamente dettagliati rispetto all'ultimo periodo chiaramente è impossibile avere dei dati che siano aggiornati all'ultimo giorno non sarebbero dati come dire credibili che prendono in considerazione tutta la situazione quindi ancora più preoccupante il dato perché noi li abbiamo qui, un bel faldone li abbiamo anche in maniera digitale tra poco ve li proporremo a pieno schermo eccoli qua, grazie a Fabio Pignatelli in regia riguardano il periodo come vedete 2023-2024 oltretutto analizzando anche i primi mesi gennaio-marzo ma chiaramente manca aprile ecco, partirei proprio con l'analisi di questi dati il fenomeno infortunistico in Puglia il periodo è quello che va dal 2023 a chiaramente i primi mesi del 2024 con le denunce di infortunio si tratta di dati non consolidati open data in Puglia tra gennaio e marzo del 2024 un totale di 6.640 denunce di infortunio nello stesso periodo di quest'anno c'è un aumento di più di 100 denunce perché siamo a 6.725 quindi una variazione dell'1,28% ecco, direttore, rispetto all'Italia come siamo messi? Dunque, il rapporto con l'Italia è di grande rilevanza dal punto di vista delle analisi perché è vero che l'inizio di questi mesi l'inizio del 2024 nei primi tre mesi è implicato un aumento generalizzato ma se noi vediamo nel dettaglio l'aumento che si è registrato in Puglia è superiore a quello della media nazionale quindi noi siamo collocati rispetto a questo fenomeno in una situazione che oserei dire preoccupante ciò che però rileva e si palesa in tutta la sua gravità è il tema dei mortali noi in questo ultimo trimestre quindi parlo da gennaio a marzo del 2024 abbiamo subito un incremento degli infortuni mortali del 77% sta a significare che la Puglia non riesce in nessun modo a calmierare questo dramma il che implica per noi la necessità di analisi ulteriori di sforzi ma altresì di renderci più efficienti dal punto di vista gestionale perché è chiaro che la nostra funzione quella principale è quella di indennizzare quella di intervenire a favore delle famiglie che si trovano in una condizione di bisogno i nostri tempi di erogazione delle prestazioni si sono fortunatamente ridotte in maniera drastica noi riusciamo nell'arco di una settimana a erogare le prime prestazioni economiche nei confronti delle famiglie che purtroppo hanno subito un infortunio di tale gravità e questo è secondo me l'elemento della vicinanza del nostro istituto a coloro i quali subiscono un infortunio l'INAG è vicina a chi ha una perdita così grave così devastante all'interno della famiglia ma ripeto si tratta di eventi che toccano intere comunità questo è un elemento che si aggiunge al tema che toccavamo in apertura si tratta di persone di lavoratori ma poi ci sono anche le famiglie che evidentemente restano purtroppo pensiamo a quelle famiglie monoreddito e quindi la situazione che si fa più grave ci conforta questa notizia e questa vicinanza che c'è consolidata dell'INAIL rispetto alle famiglie qui voi avete dettagliato molto bene anche il rapporto tra donne e uomini e pensate quando parliamo di denunce di infortunio e quando si parla di donne c'è un aumento sempre nel periodo già citato di oltre due punti percentuali invece per gli uomini lo zero virgola insomma quindi anche le donne sono molto soggette a questi infortuni ma non è tutto qui abbiamo un dettaglio sulle province sempre parliamo di denunce poi arriveremo man mano ai diversi dati che riguardano altri aspetti a Bari mi permesso di sottolineare un meno 2,78% ma soprattutto a Foggia c'è un dato positivo perché ci sono meno 11,27% di denunce invece la provincia che cresce di più ai noi è quella di Brindisi 17,9 punti percentuali in più e quindi un totale in Puglia dell'1,28% come dicevamo cresce molto anche la BAT ci sono più denunce per il 10,31% per intenderci facendo l'esempio della BAT siamo passati da 553 a 610 anche se il numero più alto in assoluto è quello della provincia di Lecce che già anzi no quest'anno Lecce cresce siamo a 1117 denunce invece nello stesso periodo dello scorso anno eravamo a 1031 e quindi Lecce ha sorpassato Foggia che invece scende anche Taranto purtroppo ha numeri negativi ma Bari è la prima in assoluto con 2520 denunce lo scorso anno quest'anno invece siamo scesi di circa 100 denunce 2450 andiamo a vedere qui ci sono dettagli sui settori produttivi ecco qui lei toccava il dato delle denunce di infortunio mortale lo ha anticipato c'è stato un aumento in Puglia in questo periodo preso in considerazione del 77 78% mentre in Italia si scende del 2 55% questo è un dato sconcertante un dato che interroga cioè le nostre l'evento mortale è l'evento più dirompente all'interno delle comunità delle famiglie ma anche delle imprese se da un lato notiamo una migliore una maggiore sensibilità sia da parte dei lavoratori che ideatori di lavoro al tema della sicurezza l'elemento che invece ci crea preoccupazione è proprio questo dato degli infortuni mortali faccio la precisazione dal 2018 al 2023 noi avevamo assistito a una riduzione graduale del fenomeno infortunistico sembrerebbe che questo 2024 implichi un aumento si tratta dei primi tre mesi dell'anno l'ho preciso però si registra inevitabilmente un aumento ora il problema è a cosa dobbiamo questo aumento una prima analisi noi l'abbiamo fatta ed è riguarda la circostanza che sicuramente si è rimesso in moto il ciclo produttivo il che è positivo per un'economia che ha necessità di riprendersi il problema vero è che a fianco a questa ripresa economica e produttiva non si è generato una analoga accelerazione sui temi della sicurezza ciò nonostante io registro da parte dei gruppi intermedi sia dei lavoratori che i datori di lavoro una maggiore attenzione il che è l'unico dato se così possiamo dire positivo nella nostra regione per esempio negli ultimi giorni nell'ultima settimana noi siamo stati ospiti di Confindustria Brindisi dove abbiamo avuto la possibilità di rappresentare agli operatori iscritti a questa associazione datoriale i nostri bandi analogamente abbiamo fatto su Taranto dove insieme abbiamo a Confindustria Taranto dove abbiamo fatto insieme un progetto sui temi della mobilità per quanto concerne gli incidenti gli infortuni sul lavoro che attengono la circolazione stradale quindi dal punto di vista culturale indubbiamente qualcosa si muove il passaggio ulteriore che dobbiamo arrivare alla base quindi arrivare alle piccole imprese alle medie imprese e ai lavoratori che devono assumere la consapevolezza che lavorare in sicurezza li salva la vita ecco poi al di là delle denunce di infortunio mortale e qui anche i dati sono veramente negativi perché ad esempio partendo da Brindisi che abbiamo citato con questo servizio ma ci sarebbe anche un fatto purtroppo grave analogo che riguarda il Barrese con Gioia del Colle ma non solo nel periodo lo ripeto gennaio-marzo confronto 2023-2024 un aumento del 500% perché? perché ce ne erano 0 quest'anno ce ne sono 5 di infortuni mortali a Brindisi 3 nel Barrese quindi si dimezzano rispetto allo scorso anno e poi anche Lecce da 0 passa a 4 i primi 3 mesi questo è veramente preoccupante poi direttore oltre a questi dati ci sono quelli che riguardano ad esempio le denunce di malattia professionale e sempre con il confronto Puglia-Italia c'è una variazione e in particolare un aumento del circa 47% in Puglia a fronte di un 24% italiano anche qui non siamo messi bene mi sembra di capire ma il dato delle malattie professionali merita un'analisi a parte noi abbiamo sicuramente negli anni scorsi non abbiamo avuto la possibilità di evidenziare malattie professionali che non ci venivano denunciate noi abbiamo iniziato una campagna anche di sensibilizzazione su questo tema per cui abbiamo necessità che le malattie professionali arrivino a noi perché si possa determinare l'origine professionale e quindi in qualche modo dare vita eventualmente ci fosse il diritto all'indennizzo è un dato che ovviamente preoccupa ma noi dobbiamo tenere conto che la realtà industriale produttiva dal mondo agricolo al mondo dell'edilizia è variegata la Puglia è lunga e le realtà produttive sono diverse evidenziamo un particolare fenomeno per quanto riguarda la sanità la sanità in questo momento risente di una serie di condizioni di stress per motivi che naturalmente noi tutti conosciamo e che fa sicuramente soffrire dal punto di vista infortunistico e delle tecnopatie gli operatori non sottovalutiamo per esempio il numero delle aggressioni che si registrano negli ambiti in ambito sanitario il che sicuramente pone interrogativi anche di una certa rilevanza cioè se noi ci affidiamo a delle persone che ci devono curare poi le aggrediamo significa che qualche cosa è successo c'è un cortocircuito che in qualche modo va risolto sicuramente il buonsenso dovrebbe farci ragionare prima di ogni altra cosa però mi sento di dire che purtroppo sono situazioni delicate perché ci si trova di fronte spesso in Italia oltre ad una burocrazia lunga anche ad una sanità un pochino carente non ci permetteremo mai di parlare del personale sanitario che è sempre pronto è eccellente fa spesso anche più di quanto dovrebbe proprio in termini di ore lavorative non solo ma c'è un sistema che purtroppo ci sta dando questo è noto dei problemi concludiamo questo aspetto riguardo le malattie professionali con un altro dato che riguarda le province al primo posto purtroppo in questa brutta classifica chi cresce di più dal punto di vista delle malattie professionali in quel periodo tra un anno e l'altro è Lecce 65-50% segue Brindisi con il 62% circa e Taranto con il 58% anche se è proprio il capoluogo Iocco Taranto dove si registrano in assoluto più denunce di malattie professionali 784% solo da gennaio a marzo 2024 anche qui veramente insomma bisognerebbe fare una riflessione approfondita quando si parla di malattie professionali ad esempio l'INAIL dove interviene dove si interviene ma intanto dobbiamo definire le tipologie la maggior parte delle malattie professionali attengono le muscolosceletriche cioè quelle malattie che attengono a movimenti ripetuti che incidono sulle posture incidono sulla tenuta muscolare negli anni passati soprattutto Taranto era però interessata purtroppo da altre tipologie di maggiore gravità pensiamo alle broncopatie ostruttive per le salazioni i mesoteliomi e le asbesto che sono gli asbestosi che erano il mesotelioma purtroppo è una forma tumorale che non lascia scampo e che era naturalmente legata agli insediamenti produttivi che interessavano il territorio Tarantino sono particolarmente preoccupanti queste formule però queste forme di malattia professionale però è chiaro che l'INAIL in questo caso sta operando un'accelerazione la circostanza per esempio che sulla sede di Lecce siano aumentate significa che c'è stata un'azione profonda di sensibilizzazione a che i medici curanti e le strutture pubbliche determinassero delle denunce quindi che queste prevenissero a noi ecco questo paradossalmente in un mare magnum purtroppo di dati negativi è un buon dato perché intanto bisogna denunciare e questo è sempre fondamentale anche per permettere a voi di capire qual è la situazione e evidentemente intervenire tra poco Dottore il problema è questo se noi abbiamo le denunce possiamo capire quali sono i fenomeni e intervenire anche con misure prevenzionali sia dal punto di vista amministrativo che medico legale se le denunce non ci pervengono noi non siamo in grado di intervenire a nostra volta e non è soltanto un elemento di natura indennitaria ma è proprio prevenzionale evitare che la gente sia male sul lavoro tra poco vedremo anche i dettagli dei dati che riguardano il periodo 2018-2023 che lei aveva accennato abbiamo un bel dettaglio da proporvi poi magari faremo anche in modo di capire dove trovarli se sono disponibili anche per chi volesse informarsi soprattutto le imprese le aziende capiamo come farlo ma intanto mi sembra opportuno a questo punto anche parlare delle azioni che ci sono in campo proprio da parte dell'INAIL ad esempio proprio qualche giorno fa avete presentato un bando che costa di ben 25 milioni di euro dedicato alle imprese ecco i dettagli oltre 25 milioni di euro per le imprese pugliesi questo è il budget previsto dal nuovo bando di finanziamento INAIL obiettivo realizzare un progetto per il miglioramento delle qualità delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro principali destinatari alle imprese singole e individuali iscritte a camere di commercio antigenato industria agricoltura e anche terzo settore gli eventi di questi ultimi giorni ci dimostrano che non possiamo assolutamente abbassare la guardia siamo travolti dal dramma dei morti sul lavoro e dobbiamo ritenere che questo tema non può essere gestito a spot va gestito in maniera continua noi stiamo finanziando tutte le opere di miglioramento rispetto al tema della sicurezza 5 gli assi di finanziamento al primo generalista 3 milioni di euro al secondo sui rischi infortunistici 6 al terzo su progetti di bonifica su materiali contenenti amianto 4,8 sono invece 3,8 quelli del quarto per il settore manifatturiero infine ben 7 quelli del quinto legato al settore agricolo il contributo INAIL può inoltre coprire fino al 65% delle spese sostenute per ciascun progetto il settore agricolo è quello più attenzionato sì purtroppo sì registriamo dati sconfortanti alcune tecniche vanno sicuramente innovate ma c'è un problema culturale le macchine vanno adeguate ecco perché questo finanziamento riguarda a un asse dedicato all'agricoltura con dei finanziamenti straordinariamente favorevoli per i giovani imprenditori agricoli e sui giovani e sulla scuola che noi puntiamo l'agricoltura in Puglia è un settore portante e dobbiamo puntare per un'agricoltura sana e sicura insomma direttore non proprio due spicci si parla di una bella dotazione finanziaria io penso che importante sia sempre ribadire l'invito alle imprese ad usufruirne ad aggiornarsi ad ammodernare come spiegava nell'intervista anche semplicemente le macchine già quello può fare la differenza c'è un dato strategico nelle considerazioni che ho riportato nella intervista di cui in precedenza l'INAIL favorisce tutto ciò che implica una riduzione del fenomeno infortunistico cioè le imprese che vogliono migliorare le condizioni di sicurezza dei propri lavoratori poi farò degli esempi per esplicare questo principio sono sostenute dall'INAIL con un'azione diretta non con parole ma con danaro ha fatto riferimento prima ai miglioramenti delle condizioni di sicurezza pensiamo a uno degli esempi che abbiamo più spesso finanziato ai sistemi di aspirazione all'interno di ambienti chiusi pensiamo a una falegnameria a un'officina meccanica le imprese che pongono in essere sistemi di areazione e di pulizia dell'aria sostanzialmente all'interno delle loro officine sono aiutate dall'INAIL cioè l'INAIL favorisce le condizioni di salute perché è chiaro che respirare in un ambiente ricco di polveri implica il rischio di ammalarsi e di contrarre malattie broncopatie ostruttive che invece devono essere scongiurate questa è la filosofia 25 milioni sono una somma notevole per i giovani agricoltori quindi fino a 40 anni i finanziamenti arrivano fino all'80% del valore del mezzo che si intende sostituire insomma rottamare un vecchio trattore per acquistarne uno l'INAIL interviene fino all'80% insomma conviene prendete appunti informatevi ci sono le pagine web dell'INAIL che ormai sono il mezzo più veloce anche dal cellulare si possono raggiungere poi io immagino anche nelle sedi fisiche ci sono i numeri di telefono capite quanto è importante anche farlo da qui però sorge in me una domanda spontanea direttore ci sono dei settori che forse sono meno sensibili vi ascoltano meno ovvero ne approfittano meno per aggiornare i macchinari per mettersi in regola anche con tutte le normative di sicurezza e purtroppo l'agricoltura anche se negli ultimi anni c'è una una controtendenza in passato abbiamo restituito alla nostra direzione generale del danaro che non eravamo riusciti a spendere nel senso che i finanziamenti non avevano raggiunto gli imprenditori per carenza di domande questo danaro purtroppo purtroppo per noi pugliesi è stato ridistribuito dalla direzione generale dell'INAIL ad altre regioni dove invece le domande erano di gran lunga superiore la nostra iniziativa le nostre iniziative di sensibilizzazione e il motivo anche per il quale oggi io sono qui è quello di invitare gli imprenditori ad approfittare di questa di questa occasione perché solo con mezzi sicuri si possono scongiurare gli incidenti speriamo quest'anno di non dover restituire assolutamente nulla ecco questo è il mio obiettivo bisognerebbe chiederlo proprio agli agricoltori ma lei come se lo spiega questo fenomeno perché non approfittarne devo dire che l'agricoltura è sempre un come dire un po' restia almeno negli anni passati è stata restia a innovare sui temi sui temi della sicurezza in realtà negli ultimi anni c'è invece un netto un netto miglioramento e questo mi dà come dire elementi anche di conforto per gli anni che verranno anche perché la Puglia insomma di agricoltura vive anche abbastanza è un capitolo della nostra economia non indifferente basti pensare che dall'aeroporto di Grottaglie fermo per una serie di vicende da tanti anni si pensa proprio a verrà inaugurata ad agosto ci hanno detto da aeroporti di Puglia a far partire le merci con questa nuova destinazione cargo per esportare proprio che cosa in primo piano l'agricoltura ce l'hanno detto qualche giorno fa lo ricorderete l'abbiamo detto nei Tg se da una parte dal punto di vista della cronaca noi dobbiamo registrare il dato e riportarvelo dall'altra però vale la pena anche evidenziare il lavoro che si sta facendo non solo di prevenzione ma anche di sostegno alle imprese per aggiornare i macchinari per mettersi in regola dal punto di vista della sicurezza e di più anche aumentare se possibile laddove la sicurezza nelle proprie aziende perché si parla di numeri sì di dati per farvi comprendere al meglio di che si tratta ma anche e soprattutto di persone di famiglie e qui con noi ve lo ricordo il direttore dell'INAI di Puglia Giuseppe Giganti che ancora ringrazio perché ha sottratto questo retta al suo lavoro quotidiano per poterci spiegare meglio questi dati ma anche presentarci una serie di strumenti ma questo lo diceva direttore serve anche nell'ambito come dire dell'informazione della sensibilizzazione che abbiamo imparato negli anni ai noi non è mai troppa ripartirei se è d'accordo direttore dai dati che si riferiscono al periodo 2018 2023 le denunce di infortunio in Puglia c'è stato praticamente un dato che si riduce mi sembra di capire sì è evidente dai numeri partiamo dal 2018 con 31.122 denunce e si scende man mano quindi dal 2019 al 2023 30.000 25.000 24.000 si risale nel 2022 con 29.000 denunce e poi nel 2023 lo scorso anno si riscende almeno di due punti potremmo dire circa il 27 quindi 27.580 denunce che cosa è successo in questi anni volendolo riassumere allora sicuramente il trend è in discesa l'ultimo dato che avete evidenziato in realtà già dava dei segnali di ripresa del fenomeno infortunistico questi anni sono stati anni molto importanti stiamo parlando del periodo ricompreso anche il periodo della pandemia eh sì sono importanti perché noi in questi anni abbiamo sviluppato un sistema di comunicazione di particolare rilevanza cioè siamo riusciti a modificare per i nostri bisogni per questa attività di sensibilizzazione che il testo unico ci attribuisce le modalità di comunicazione quindi noi riteniamo che eh questi anni siano un po' tutto dalle nostre iniziative comunicazionali una comunicazione poco istituzionale se così possiamo dire è una comunicazione alla portata di tutti ma che ha posto all'attenzione dell'opinione pubblica pugliese il dramma degli infortuni questa è una delle cose delle quali noi siamo più orgogliosi perché entrare nelle case delle persone e raccontare il dramma sta a significare che mettere in guardia soprattutto che riguarda tutti i lavoratori pugliesi significa utilizzare strumenti efficaci noi utilizziamo metodi di comunicazione che per esempio interessano le scuole noi ci occupiamo molto del tema della cultura perché non perché gli studenti siano interessati dalla riscosità del lavoro non ancora ma noi sappiamo che loro sono gli imprenditori del domani i lavoratori del domani i professionisti del domani dobbiamo instillare in loro il germe della sicurezza solo in questo modo avremo una classe una classe di lavoratori più consapevole del fatto che il lavoro implica dei rischi e devo dire che se guardiamo la grafica che riguarda anche il dettaglio per le province il dato è confermato si tende a scendere a cavallo tra il 2020 e il 2021 un po' per il covid ma non solo evidentemente poi però nel 2023 noi c'è una ripresa rispetto alle denunce di infortunio in particolare nel 2023 il numero più alto si è registrato a Bari 10.399 segue Taranto con 3.637 poi le altre province si attestano tra le 2.000 e le 4.000 e a proposito di Puglia in particolare vedete un po' ve lo riassumo velocemente ma lo state anche vedendo 2018 circa 31.000 denunce e poi dal 2019 al 2023 30.000 25.000 24.000 29.000 27 interessante questo scarto 29.27 tra 2022 e 2023 nel 2022 si era già ricominciato a lavorare a pieno ritmo insomma ormai gli effetti dei lockdown eccetera erano non più incidenti diciamo sul lavoro però insomma comunque dati che purtroppo non ci possono far ancora sorridere se da una parte si denuncia di più e questo è più importante dall'altra però si continua ad ammalarsi sul lavoro a morire sul lavoro e mi sembra che oltretutto guardando i vostri dati il settore che sta messo peggio è quello della sanità a cui lei faceva riferimento ma anche quello delle costruzioni e del trasporto e magazzinaggio si la logistica è come dire una new entry ma questo ovviamente dipende dall'evoluzione del sistema produttivo noi abbiamo sviluppato negli ultimi anni complice anche la pandemia una distribuzione molto più capillare per cui gli infortuni legati alla aumentazione dei carichi al trasporto di merci su strada hanno naturalmente subito un'impennata e questo mi ricollego a quello che avevo detto prima cioè la ripresa della produzione deve essere necessariamente accompagnata da una ripresa della sensibilità al tema degli infortuni non possiamo pensare che siccome aumenta la produzione i temi della sicurezza vengono in secondo ordine noi abbiamo tre morti in Italia abbiamo tre morti al giorno è un dato da guerra civile non è un dato da paese civile allora su questo dobbiamo interrogarci quali sono gli strumenti che noi possiamo mettere in campo si fa riferimento al tema della repressione al tema dei controlli i controlli sono importantissimi sono però una parte del problema perché il vero elemento è la cultura della prevenzione chi va a lavorare deve capire che l'utilizzo del dpi è funzionale alla sua salute il datore di lavoro deve cogliere che deve obbligare il datore di lavoro all'utilizzo del dpi lo deve sensibilizzare lo deve formare sull'importanza del dpi poi naturalmente ci accorgiamo che in agricoltura gli infortuni avvengono tutti allo stesso modo che in edilizia le cadute dall'alto continuano a verificarsi nonostante i sistemi di sicurezza nonostante una compartecipazione di datori di lavoro e sindacati dei comitati paritetici è veramente evoluta nella nostra regione ciò nonostante per esempio le cadute dall'alto continuano a verificarsi ma che cosa accade quando in un'azienda si verifica un infortunio in primo luogo interviene l'autorità giudiziaria per determinare le responsabilità interviene l'INAIL perché l'evento se è riconducibile al lavoro cioè se si presenta l'elemento giuridico dell'occasione di lavoro la famiglia nel caso di un infortunio mortale ha diritto a un indennizzo si chiama rendita superstiti e permette con un indennizzo di carattere economico di risollevare quanto più velocemente possibile la famiglia dalla condizione di bisogno che inevitabilmente si determina per effetto della morte del congiunto e poi ci sono anche delle ripercussioni cioè l'azienda io immagino si comincia anche a chiedere a che punto sono con la sicurezza se è il caso forse di intervenire che cosa succede dietro le quinte ma oggi le aziende hanno sicuramente maturato una maggiore consapevolezza di questo tema e questo è un dato positivo e penso che sia anche dovuto alla nostra comunicazione espansiva siamo riusciti a penetrare nelle associazioni datoriali in questi ultimi anni in maniera efficace siamo stati anche bene accolti delle associazioni datoriali lo stesso dico per le organizzazioni sindacali che spesso hanno sollicitato il nostro intervento ribadisco il testo unico ci attribuisce compiti di sensibilizzazione noi dobbiamo generare cultura e la cultura va nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori questa non è una battaglia che possiamo assolutamente vincere da soli ecco a proposito di informazione sensibilizzazione anche ai mezzi social attraverso mezzo social che non è scontato ma è importante perché ormai tutti usufruiamo di questi social network io ricordo ad esempio nel Tarantino quando c'è stata qualche iniziativa di rilievo dal punto di vista musicale voi anche lì siete intervenuti anche semplicemente con lo scatto fotografico l'hashtag però tutto riconduce ad un insegnamento anche ai ragazzi più giovani c'era l'esempio dei vari DPI partendo ad esempio dal semplicissimo casco da indossare in cantiere sono dei piccoli esempi ma ogni goccia contribuisce anche sui social quindi anche in linea in moderna quella è una delle cose più interessanti e devo anche ammettere che io non ho alcun merito quella è stata un'intuizione dei miei collaboratori del dottor Cipriani di Elena Riefolo che mi piace citare dalla dottoressa Spadafina noi abbiamo sviluppato un rapporto di collaborazione con un'associazione che si chiama Afo6 che si occupa di spettacoli siamo partiti da un elemento anche nel mondo degli spettacoli si verificano gli infortuni mortali e se ne sono verificati avete fatto anche dei filmati con gli studenti assolutamente sì questo rientra all'interno di un avviso Afo6 ha partecipato a questo avviso sono partner consolidati della nostra struttura regionale perché ci hanno permesso di entrare in un mondo che non era il nostro quando parlavo della comunicazione poco istituzionale mi riferivo essenzialmente alle collaborazioni con le associazioni di questo tipo ma soprattutto siamo riusciti a prendere in considerazione una parte della società i giovani quelli che vanno a vedere gli spettacoli che diversamente non saremmo riusciti a raggiungere noi abbiamo avuto la possibilità all'interno degli spettacoli per esempio del Cinzella Festival di avere uno stand dove i ragazzi venivano facevano delle foto e si interrogavano sul tema dei dpi sul tema della sicurezza senza quel tipo di iniziative quella parte della popolazione noi non saremmo mai riusciti a raggiungerla poi a Fosei è riuscito a fare delle cose straordinarie dei filmati siamo andati nelle scuole l'importanza della scuola nelle scuole per raccontare attraverso l'allestimento dello spettacolo in sicurezza più in particolare il tema della sicurezza parliamoci chiaro un classico ragazzo una classica ragazza a meno che non sia una persona come dire interessata curiosa molto precisa è difficile che vada a cliccare sul sito dell'Inail però se Maumetto non va alla montagna si può fare il contrario come qualcuno ci insegnava e quindi portare negli eventi l'Inail è utile anche con strumenti moderni e innovativi ricordo il cartellone quello per i selfie insomma tutto crea un interesse verso queste pagine o anche le pagine social come Facebook insomma tengo a precisare che di recente questo gruppo che io ho costituito mettendo insieme la comunicazione e la prevenzione si tratta di quattro funzionari che mi sento di dover citare il dottor Cipriani il dottor Mannarelli Elena Riefolo e la dottoressa Spadafina hanno messo insieme un gruppo dove le innovazioni comunicazionali diventano il nostro pane quotidiano noi abbiamo bisogno di arrivare ai giovani perché i giovani sono il futuro dal punto di vista lavorativo e solo così avremo la possibilità di far sì che il fenomeno infortunistico scongiuri questa strage continua che registriamo ogni giorno abbiamo visto il capitolo economico ricco interessante bisogna approfittarne e intervenire ma c'è anche quello progettuale ben sei progetti tra prevenzione e salute sono stati presentati proprio di recente dall'INAI guardate nel 2023 sono stati registrati la riduzione del 6,19% delle denunce di infortunio l'incremento dei casi mortali dai 74 del 2022 ai 78 del 2023 e il significativo aumento pari al 40,4% delle denunce di malattia professionale sono questi i numeri dell'analisi degli open data relativi al fenomeno infortunistico e tecnopatico in Puglia e così l'INAI l'ha individuato sei progetti di prevenzione su salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'avviso pubblico bandito dalla direzione stessa nel 2023 da sentir sicuri il podcast della sicurezza in cantiere in Puglia della Feneal Will a Ciac sicurezza organizzato da Conf Cooperative Puglia passando per il Cinzella Festival Tilt il cortometraggio di Antonio Palumbo testimoni della sicurezza della Formedil di Taranto e l'iniziativa proposta da CGL Puglia sullo stress da lavoro sanitario e socioassistenziale si tratta di risorse che noi mettiamo a disposizione di chi vuole contribuire con noi a questa lotta tenuto conto che il fenomeno infortunistico in Puglia è veramente preoccupante noi abbiamo una lievissima diminuzione assolutamente non significativa del fenomeno infortunistico ma purtroppo il numero dei morti è costante certamente c'è bisogno di norme leggi controlli attività ispettiva però poi ci deve essere una coscienza come dire che parte dalle imprese dai lavoratori nelle singole realtà in cui si lavora ecco non a caso vi abbiamo proposto adesso questa scheda perché c'è questa aggiunta si parla anche di un podcast si parla di filmati un pochino più lunghi ma anche di una chat per la prevenzione sì noi abbiamo messo abbiamo sposato le nuove formule di comunicazione non abbiamo scelta se vogliamo raggiungere settori della società che utilizza questi strumenti innovativi dobbiamo utilizzare questi strumenti innovativi preciso che questi avvisi sono la finestra sul mondo una finestra sul mondo rispetto alla quale noi contribuiamo attraverso una compartecipazione del 50% abbiamo mediamente a disposizione 200 mila euro all'anno che mettiamo a disposizione di tutti coloro i quali associazioni datoriali sindacati o associazioni in genere vogliono sviluppare il tema della sicurezza io ritengo che questa sia una scelta vincente dobbiamo restituire alla comunità risorse e dobbiamo fare in modo che queste risorse siano utilizzate per migliorare un dato perché questo dato degli infortuni sul lavoro è un dato di civiltà e non possiamo far finta che nulla accade siamo assolutamente d'accordo io ringrazio Giuseppe Gigante direttore dell'INEIL di Puglia per essere stato qui nostro ospite a Mattina Sud chiaramente noi siamo sempre a disposizione alle porte aperte di Antenna Sud per tutti i dati ci auguriamo sempre più positivi e meno di questa natura ai noi era doveroso per noi farlo oggi all'indomani di quello che è avvenuto ai noi sabato a Brindisi ma poi altri fatti lo ripeto gioia del Colle purtroppo ci sono stati una serie di episodi una escalation nera di nuovo grazie all'INEIL anche per i dati che ci ha fornito puntuali che vi abbiamo proposto come avete ascoltato però anche fondi a sostegno delle imprese e strumenti i progetti c'è tanto un'esercizio un'esercizio Grazie a tutti.